Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per pioggia su gran parte della regione, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la cantieristica, questa notte in orario 22.07, nell'ambito dei lavori connessi all'ampliamento a tre corsie e per consentire la demolizione del cavalcavia al chilometro 303,8, tratto chiuso tra Firenze Sud e Incisa Leggello nelle due direzioni. In Fipili ricordiamo che per lavori l'uscita di Tirrenia è chiusa per chi proviene da Firenze. Ci spostiamo sulla SR2 Cassia, dove troviamo senso unico alternato ai restringimenti, per cantieri tra i chilometri 287,7 e 288,2 circa nel comune di Impruneta fino al 23 giugno. Il provvedimento è in vigore H24. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!